Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale ha sequestrato a Partinico una villa con piscina, area spa e boschetto privato finemente arredata con arazzi, quadri e armature per un valore totale di circa 4 milioni di euro. Destinatario del provvedimento è Benedetto Valenza, 54 anni, già coinvolto in diversi processi di mafia, figlio di Salvatore e nipote di Erasmo Valenza, esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Borgetto nonché vittime dell'upara bianca il 21 aprile del 1983 in quanto uomini d'onore legati al gruppo del noto boss Ghetano Badalamenti. Fin dagli anni 90 Valenza era considerato un imprenditore di riferimento per la produzione di calcestruzzi delle famiglie mafiose, dei Vitale e dei Brusca, riuscendo così a raggiungere una posizione di monopolio grazie alla protezione di Cosa Nostra. Nonostante il suo impero aziendale fosse stato smantellato nel luglio 2001 grazie al provvedimento di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo a seguito di una indagine da cui è emersa chiaramente la sua vicinanza ai fratelli Vitale, Valenza era riuscito comunque a reinserirsi nel settore della produzione e fornitura di calcestruzzo e conglomerati bituminosi, intestandosi fittiziamente beni e società a vari prestanome e gestendo in tal modo cinque impianti di calcestruzzo ed una società di trasporto merci dislocati tra le province di Palermo e Trapani. Nel 2007 e nel 2009 è stato quindi arrestato per il reato di intestazione fittizia di beni nell'ambito delle indagini delle quali tra l'altro erano emersi il controllo esercitato dalla mafia sugli appalti pubblici nella Sicilia occidentale e l'utilizzo di cemento depotenziato per la realizzazione delle opere allo scopo di incrementare i profitti. Dopo un nuovo arresto sempre per lo stesso reato nel 2014 le fiamme gialle del Gico di Palermo hanno eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro. Tra questi non era però compresa una sfarzosa villa di circa 500 metri quadrati con vasto parco pari a 5.000 metri quadrati dotata di ogni comfort in quanto realizzata su un terreno ereditato da Valenza prima della sua illecita scalata imprenditoriale. Tuttavia più recenti indagini svolte anche attraverso l'analisi dei rilievi aerei dal 1994 ad oggi hanno permesso di scoprire che la costruzione della villa è avvenuta tra il 94 e il 98 anni in cui Valenza già viveva in pieno la propria illecita espansione imprenditoriale. Per questo motivo alla luce dell'evidente sproporzione fra i redditi dichiarati e i beni posseduti la sezione misura di prevenzione del Tribunale di Palermo ha ritenuto che l'abitazione e le sue pertinenze costituissero il reimpiego dei redditi illeciti provenienti dalle attività di impresa di Valenza e ne ha disposto il sequestro adesso eseguito dai finanzieri.